Prevemente, prima di iniziare i lavori di Consiglio Comunale, è purtroppo leggermente scomparso un dipendente del Comune di Cossuqua, i quali molti di noi, quasi tutti, conservano un altro di questo ricordo, Maurizio Masotto, che ricorderemo con un minuto di silenzio, il Consigliere di Capua aveva scritto chiedendo di poter dire due parole per ricordare Maurizio, e direi che anche il caso di unirci, di unire al ricordo di Maurizio, è un collegare al nostro minuto di silenzio anche a vittime di questo incidente aereo, per ora che non si capisce bene cosa sia accaduto, che ha praticamente provocato numerose vittime, ancora una volta. Da parte di tutta l'amministrazione, ovviamente, di tutto il Consiglio Comunale, e anche da parte della Giunta, nei guardi della famiglia di Maurizio Masotto, un grande abbraccio e tantissimo, tantissimo affetto, è un bellissimo ricordo che ci rimarrà del caro Maurizio. Quindi un minuto di silenzio e poi lasceremo lo spazio alla Consigliere di Capua, per dire due parole. Presidente, vorrei ricordare anche le vittime di tutti. Grazie, è vero, grazie, mi scuso, mi scuso, ma è emozionato dal tradizionale dell'aereo, mi spiegato anche le vittime di tutti. Grazie. Grazie. Consigliere di Capua, vai bene. Grazie Presidente, avevo preparato un discorso, ma il minuto di silenzio è stato già fatto, quindi non è utile. Però una cosa voglio dirla, ricordare Maurizio non occorrono tante parole di filosofi e europei, occorre soltanto ricordare che un dipendente comunale ci lascia a un'età giovane, troppo giovane, per lasciarci. È vero che quando una persona ci lascia, che abbia 100 anni, che ha 50 anni, dispiace sempre. Io ho apprezzato molto il giorno del funerale, la presenza della massima carica del comune di Corsico, la dottoressa Maria Ferrucci, che era presente. L'ho apprezzato molto perché in quel momento ho sentito che la città era vicino alla famiglia. Io in quel momento, quando ho visto arrivare il funerale, che avevamo in chiesa noi, e ho visto la mamma di Maurizio sorretta anche, oltre dalla sindaca, anche dalla signora Landoni. Voi sapete che aveva una mamma, ha una mamma, e quindi questo gesto mi ha colpito molto. tanti dipendenti comunali, è la prima cittadina, con la sua presenza, penso che ha rappresentato tutta la città. Grazie signora Sindacato. Cominciamo quindi con i lavori del Consiglio Comunale. Il primo punto è l'opera del giorno, le scatole del diritto di superficie dei box dei governi con 13, modifica la dimensione di chi presenta. Questa è la stessa. Buonasera, siamo a portare questa sera questa proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, che prevede una modifica di una convenzione del 1989, cioè la prima convenzione del 1929. L'oggetto della convenzione è la modalità di costruzione e di realizzazione di box in via Copernico 13. La modalità di realizzazione all'epoca prevedeva, su una proprietà comunale, la realizzazione appunto di box attraverso il meccanismo dei diritti di superficie. La loro convenzione tra diversi dispositivi prevedeva una serie di vincoli che sostanzialmente sono da scrivere alla pertinenzialità dei box rispetto alle unità immobiliari, cioè a dire che la destinazione, diciamo, prevalente o quasi esclusiva, almeno in fase iniziale, di redazione tra i box, i realizzati e le abitazioni presenti, doveva essere, come dire, necessaria. Proprio perché l'idea corretta all'epoca era la disponibilità di spazi per la sosta coperti legati alle nuove residenze. Evidentemente dopo più di 5 anni siamo arrivati, e questo è un atto, diciamo, che si è sostanziato già nel 2013 alla, come dire, possibilità offerta da parte dell'amministrazione comunale di riscattarne il diritto di superficie, cosa regolata dalla legge e per questo atto che è già stato predisposto, diciamo, già dal settembre del 2013 sono state definite le modalità con cui si arriva a riscattare il diritto di superficie e quindi dare la piena disponibilità di proprietà del bene a ogni attuale occupante dei box, però è questo il motivo della proposta di deliberazione di questa sera. C'erano altri obblighi convenzionali rispetto alle quali gli stessi attuali, diciamo, proprietari di box erano fatti istanza, istanza che è stata avanzata in una data, diciamo, intorno al settembre del 2013, diciamo poco prima dell'estate del 2013, rispetto alla quale i proprietari di box hanno chiesto anche la possibilità di rimuovere ulteriori vincoli che la loro convenzione aveva definito. Nello specifico la convenzione che ha una durata di 80 anni, no, 90 anni in realtà, di 90 anni, quindi che decade sostanzialmente nel 2071 circa, prevedeva e prevede all'articolo 8 che l'impresa, e quindi leggo testualmente l'articolo 8, l'impresa si impegna a cedere i box esclusivamente residenti nelle zone di realizzazione degli stessi. La vendita non dovrà superare le due proprietà di realizzazione a ciascuno più familiare e i box non venduti dopo 8 mesi dall'inizio del lavoro e potranno essere ceduti a residenti in altre zone del comune, mantenendo comunque il vincolo delle due unità. In caso di successiva cessione di box, a prezzo di prima cessione, sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio di 15 mesi di vista del costo di costruzione al fabbricato residenziale dei prezzi al consumo dei famigli e preempiegati, tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di imprezzamento determinata dall'età della costruzione secondo la seguente tabella, e c'è una tabella che esplicita questo meccanismo. Adesso, senza farla venire e buttarla molto in tecnico su cui peraltro abbiamo la disponibilità e che ringraziamo il funzionario Gianluigi Casarini che si occupa nell'ambito dell'attività, della sua attività verso il comune di questi aspetti, per cui eventuali questioni tecniche possiamo affrontarle, oltre ad averle già affrontate in commissione urbanistica con il suo supporto. qui diciamo in buona sostanza che ciò che andiamo a modificare questa sera è appunto prevedere sostanzialmente la modalità con cui bisogna determinare l'onere che i proprietari dei box dovranno, e quindi diciamo la corrisponsione economica di denaro ulteriore oltre al riscatto di diritto di superficie, che i proprietari dei box dovranno corrispondere all'amministrazione comunale per risarcirlo, diciamo, rispetto all'esistenza di questi tipi di vincoli. Questo perché, diciamo, nella condizione attuale i box sono vincolati con le previsioni di questo articolo 8, oltre che il diritto di superficie. e quindi ciò che è stato messo a punto facendo riferimento ai meccanismi estimativi è quanto poi riportato nel dispositivo di delibera che vi vado a reggere in cui si dice che la completa cancellazione dei vincoli convenzionali, quindi sto facendo riferimento specifico al contenuto dell'articolo 8, per il titolare di diritto di superficie, potrà avvenire solo attraverso il pagamento di un corrispettivo commisurato alla differenza tra il valore condizionale d'acquisto rivalutato al momento dell'assegnazione e il valore di libero mercato al momento della futura cessione, consentendo di colmare, mantenendo costantemente nel tempo, la differenza inizialmente individuata tra i due valori, quello convenzionale e quello di mercato. Il suddetto impargamento è determinato da una formula matematica che qui è stretta a cui sostanzialmente vi rimando. Quindi vuol dire con la sostanza che la corresponsione di denaro deve sostanzialmente tenere conto della ristorazione all'amministrazione comunale e delle agevolazioni che sono state utilizzate all'epoca e quindi dei rispettivi vincoli che sono stati imposti nel 1989, valutati rispetto a quello che sarà il valore di mercato al momento della vendita. Quindi la corresponsione della quota di denaro sostanzialmente deve essere costruita, è una percentuale, una sostanza, di questa differenza di valore tra il valore di mercato e il valore attualizzato del prezzo di acquisto al momento dell'assegnazione. direi che in buona sostanza con questa modifica convenzionale si dà la possibilità che poi singolarmente ogni proprietario potrà più o meno attivare rispetto al riscatto del periodo di superficie e alla liberazione completa dei box di questi ulteriori vincoli convenzionali. diciamo chiediamo una risposta anche qui tecnica insomma strutturata a due istanze avanzate ovviamente da parte di questi cittadini e direi che questo ci permetterà appunto in un momento in cui la leggera diventerà esecutiva di dare la possibilità appunto ai proprietari di completare diciamo il riscatto dei box e trasformarli sostanzialmente in immobili con pienamente libri in totale disponibilità di proprietà secondo il codice civile, quindi box di proprietà a tutti gli effetti. prego, ci sono interventi? consigliere il dato? visto che io questa macchia parlava della presenza del Giotter, la cosa che mi chiederei a Giotter si può spiegare bene quella formula che vincola il colore del territorio di superficie alla moda di X uguale alle altre box che può darci una applicazione in merito a questa formula grazie possiamo invitare se sospendiamo il gruppo ufficiale? prego allora il presupposto di questa diciamo questo algoritmo prevede prevede che indipendentemente da quando il proprietario superficiario che riscatterà deciderà di vendere e quindi di fatto cancellare quei che sono i vincoli, premetto i vincoli qui espressamente si riferiscono all'alienazione alla vendita, quindi soprattutto la possibilità di venderlo sul libero mercato e quindi non a un prezzo convenzionato. l'articolo 8 letto poc'anzi prevede che se il vincolo rimane il prezzo è determinato dall'attualizzazione rispetto ai coefficienti medi del costo di costruzione di Istat e dei prezzi di consumo detratto da un coefficiente in una percentuale di che tu sta. Questo impone in maniera esemplificativa che oggi quei box che sono stati assegnati ufficialmente a un prezzo intorno ai 16 milioni di vecchie lire, quindi 8 mila euro, avrebbero oggi un prezzo convenzionato in caso di vendita da riportare sul lato notarino nuovo di circa 11-13 mila euro. Cosa succede? Succede che tra 10 anni una persona che ha riscattato e ha pagato l'indennizzo di riscatto e quindi ha trasformato diritto in superficie in diritto proprietà decide di venderla. A questo punto essendo vincolante il prezzo di mercato che sarà tra 20 anni, quello che è corretto è che il famoso VA diviso VCB, nella fattispecie il VA è il valore del post come attualizzazione del prezzo del senso, cioè quello che vi ho detto io in questo momento, cioè il famoso 11-12 mila euro, diviso per il prezzo di mercato ad oggi, cioè questa proporzione rimane congelata al momento del riscatto e si trascina praticamente nel tempo. Cosa vuole dire? Vuole dire che quello che tu tra 20 anni fondamentalmente porterai a riconoscimento, quindi a un beneficio, a un plus valore, una parte viene riconosciuto come indennità della cancellazione di quei vincoli. Quindi oggi fondamentalmente non riusciamo a dare un peso al ristoro di quello che è la cessazione di questi vincoli e questa formula permette in una maniera equa di essere determinante quello che sarà il mercato. Se il mercato tra 20 anni sarà inferiore e il risultato quindi sarà negativo o uguale a zero, non ci sarà nessuna corrisponzione di vendizio. Più sarà alto il valore e a quel punto sarà mantenuto quella proporzione e quindi sarà riconosciuto una quota a fronte del fatto che è stato cancellato e quindi tu hai beneficiato della vendita libera rispetto al fatto che tu al suo tempo l'hai acquistato a un valore agevolato. No, 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 ho fatto un esempio, è la semplificazione, ci ho detto tra 20 anni poteva essere... Anche domani. Anche domani, certo, assolutamente sì. Però sceglie ogni persona, quindi è libero di scegliere in qualsiasi momento e liberamente senza obbligarla oggi a dire che con il riscatto si cancella anche i vincoli che mi devi corrispondere mille euro, dieci dila euro, poteva essere poco, poteva essere tanto, doveva farlo per forza tutto in obiettivo del riscatto. Con questa formula da parte, diciamo, tecnica nostra, che invece tutela ogni scelta di ogni singola topitaria superficiale che può anche riscattare e decidere di non vendere mai. Quindi in quel caso non ci deve riconoscere nessun altro del rischio. Nel momento in cui vuole vendere e vuole vendere, tra virgolette, sul libero mercato, a quel punto io, come amministrazione, ti devo in qualche modo ristorare del fatto che tu, in qualche modo, hai avuto la possibilità di vendere sul libero mercato e avere, a questo punto, una capitalizzazione maggiore rispetto a quando tu l'hai acquistato. Azzera, tra virgolette, la possibilità di speculazione, di un vantaggio che fondamentalmente all'inizio dell'assegnazione c'è stato. Una domanda per consigliere a voi. Grazie Presidente. Questa disponibilità in profitto. Ma questa formula si applica eventualmente solo al primo passaggio di proprietà o eventualmente anche a successivi passaggi di proprietà? E se la risposta è no, come immagino, era possibile prevedere che questa formula venisse applicata almeno fino alla durata della confezione, che l'avresta di fare in soltarmi anche nei successivi passaggi di proprietà? Allora, sì, la risposta è no, ma semplicemente perché se questa amministrazione non voleva aderire a cancellazione, cioè non mettere anche per i successivi, voleva dire mantenere i vincoli. A quel punto non avrebbe avuto senso ingegnerizzarsi un algoritmo per che questo sia ripetuto. Anche perché chi acquisterà successivamente sarà un potenziale acquirente che acquisterà un bene in diritto di proprietà e in edilizia privata, quindi fondamentalmente da acquistare un mercato e quindi è giusto che non abbia ulteriori vincoli. Ci sono altre domande? È un vantaggio quindi acquistare oggi con il mercato basso. Oggi con il mercato basso è un vantaggio, no? Cioè io l'acquisto oggi seguendo quello che dicevi tu prima, oggi il mercato è basso, quindi conviene che io lo riscatto, se domani lo vendo con un mercato diverso il gap di differenza che pagherei sarebbe sicuramente superiore, giusto? Perché la formula è sempre quella, che però è data dal prezzo di vendita del libero mercato, giusto? Quindi oggi sarebbe favorevole per chi lo volesse acquistare. Questo oggi, pensando che domani possa liberare, potrebbe anche peggiorare, noi non sappiamo. Potremmo anche morire tutti. No, nel senso che questo, il fatto che oggi non individuo esattamente un prezzo, fondamentalmente tutte le no, che sarà il mercato a giudicare se l'operazione, la capitalizzazione avrà un senso. Quindi secondo me è molto, tecnicamente è molto più corretto che non fosse oggi a congelare esattamente un indennizzo che non avevamo dei pesi per poterlo attribuire. Posso dire una cosa, Presidente? Sì, no, vorrei puntualizzare una cosa ulteriore rispetto a questa richiesta, soprattutto rispetto all'ultima domanda. vorrei precisare il fatto che noi, come avete visto, non andiamo a individuare una cifra esatta, no? Quindi, diciamo, la scelta a monte che abbiamo effettuato è quella non tanto di fissare un valore determinato, quindi una cifra necessaria per l'eliminazione completa dei vicoli, bensì è stato quello di dover sforzarci appunto da questo motivo per cui la forma un po' complicata, quindi individuare un metodo a cui si chiede evidentemente il Consiglio Comunale la soddisfazione rispetto alla tipologia di metodo, che ovviamente, come dire, questa macchinetta poi verrà attivata nel momento in cui, quindi lasciando piena libertà ai proprietari dei box di poterla attivare o meno in un momento determinato da qui fino alla scadere della Convenzione, quindi abbiamo ancora circa una settantina d'anni e quindi, diciamo, la scelta è stata, ripeto, non tanto quella di fissare dei numeri, infatti noi non diamo cifre all'interno della Convenzione, quindi noi diciamo il diritto, la cancellazione complessiva dei vincoli richiede la corrisponsione di 1.500 e 2.000 euro proprio per dare la libertà a chiunque di poter fare la propria scelta. Dopodiché, evidentemente, è una questione di mercato, insomma, è un po' con il borsa scommettere che sangue uscite nel mercato, uno decide più o meno di acquistarlo oggi, aspettare, oppure non farlo del tutto, insomma. Ci sono altre domande per che sarebbero, altrimenti consigliatranno? per sapere se la quota per il diritto di superficie è fissa o la quota per il diritto di superficie è fissa, che è stata già individuata nel piano di alienazione dello scorso anno e quindi fondamentalmente quello ha un calcolo diverso, si aggira sui 900 euro, il diritto di riscatto. Poi ci sono i problemi di accessori, l'atto, un po' tarine, quello è... lì sono il totale è 62... 62... 64... ... ... ... ... ... ... il consiglio di capo mi scusi grazie signor Presidente ma volevo capire è sospeso la registrazione audio o video? no, è sospesa la seduta ufficiale quando parla un buon componente del consiglio comunale quindi l'operatore sta registrando quindi l'audio c'è ok, grazie io ringrazio Pansini che mi ha dato un'informazione vorrei sapere signor Casarini, da lei un'informazione un po' più tecnica lui me l'ha già data però volevo che rimaneva agli atti alla fine noi su questi box cosa ci guadagniamo su ogni box lei mi può dare questa questa informazione precisa come tecnico grazie assolutamente no nel senso che questa operazione nasce soprattutto non per far cassa nasce per un'esigenza espressa dai cittadini e proprio perché si è individuato una formula così complessa e come vi ho detto è il mercato che deciderà fondamentalmente se a seguito della cancellazione ci sarà un indennizzo più o meno basso più o meno alto o forse nulla proprio perché fondamentalmente a seconda del momento che ogni singolo proprietario deciderà se alienarlo e cancellarlo a quel punto avremo degli elementi oggettivi per cui copriranno gli elementi della formula e sarà un risultato se non lo vende rimane assolutamente sì grazie ci sono altre domande possiamo dire la seduta ufficiale grazie Casalini vista l'argomentazione particolarmente tecnica interventi possiamo abbiamo approfondito credo in modo molto dettagliato all'interno della commissione urbanistica questo tema c'è stata anche la possibilità di condividere le riflessioni a voce alta anche con alcuni cittadini che erano presenti e che quindi hanno testimoniato il loro parere su questo argomento intanto una riflessione generale credo debba essere fatta se esiste una differenziazione tra diritto di superficie e diritto di superficie probabilmente qualcosa che ha a che fare con con le strategie dell'amministrazione quindi ha a che fare con le decisioni che a suo tempo avevano fatto assumere questa strada e altre invece che sostanzialmente determinano soltanto degli effessi dal punto di vista economico prima Casalini ha detto che non è una questione legata a far cassa probabilmente non lo è solo questo anche se nella delibera citata questa possibilità in modo molto specifico oltre a rappresentare l'interesse pubblico dell'ente e delle casse comunali perché così non so che vantaggio a punto di vista strategico politico ci sia nel mantenere del diritto di superficie con dei box quindi a coperno se non quelli da ricavare da questo punto di vista probabilmente degli introiti in questo momento più che mai necessari per far pagare i conti generali di questo comune però a parte questa riflessione che rimane aperta ovviamente c'è il fatto che molti di molti a quanto pare questi rappresentavano anche altri pareri si avvicinano a questa richiesta avanzano a questa richiesta perché non tanto avevano interesse della vendita che vi parli nessuno avesse in mente di fare da qui a poco tempo anche perché bene o male i vincoli che nel frattempo sono rimasti gli stessi ma hanno ampliato la possibilità di accedere come acquisto perché quello che prima era considerato zona poi è diventato a Corsico forse anche qualcosa di più quindi insomma rimane soltanto la modalità di terminazione del prezzo ma forse per molti di questi la necessità di chiudere una vicenda di non lasciare ad altri in questo caso i propri figli di incombenza ulteriore di dover esercitare questo diritto attraverso un pagamento e vogliono farsi carico a uno genitore questa è una possibilità che abbiamo constatato ed è abbastanza normale e credo abbastanza diffusa secondo me secondo noi forse valeva la pena anche approfittare di questa occasione per valutare attentamente nella nostra città quale altre opportunità vi siano e che possono e potevano quindi all'interno di un quadro più generale rientrare una delibera quadro che consentisse con chiarezza di sviluppare questa tematica in prospettiva futura ci siamo anche addentrati sull'algoritmo particolarmente complesso di Casarini che però insomma alla fine è stato abilissimo a spiegare ma secondo noi questo discorso dei vincoli se considerato un'ipotetica volontà di acquisto potrebbe essere tranquillamente considerato l'assessore proprietario che diventerà da quel punto non soltanto titolare della superficie ma anche a questo punto del vincolo e quindi diventerebbe una volta per tutte svincolato credo che sia una cosa che si possa anche considerare io non vedo delle negatività o in contrapposizione a una decisione anche di questo tipo e forse favorirebbe il fatto che cosa che non è avvenuta questa cosa che sa nel 2013 e nessuno credo quasi nessuno abbia avanzato richieste addirittura di chiudere col diritto di superficie quindi vuol dire che non si muove quindi questa mobilità che era stata proposta che era stata auspicata non c'è non c'è una lira che entra nelle nostre casse quindi secondo me valeva la pena allargare questa ipotesi e soprattutto prevedere tanto è possibile credo a di là del valore di vendita che può essere credo il famoso valore di ristoro calcolato sul valore di vendita che è stabilito da una serie di distini indici di riferimento che possono esserci in quegli organismi che determinano il valore delle abitazioni cosa più difficile invece se calcolato sul valore reale di vendita che può nascondere qualche insidia e diventare addirittura negativo per questa amministrazione quindi con nessuna possibilità di entrata quindi siamo piuttosto incerti su questa delibera tra l'altro le cogliamo anche questo aspetto peccato di ritardo rispetto alle solicitazioni che ci sono state ma l'assessore diceva settembre 2013 forse si poteva arrivare anche un attimino prima quindi rimane queste incertezze vediamo un po' come sviluppare il nostro consenso alla fine di questo dibattito ci sono altri interventi cosa sia dato se adesso posso fare un intervento perché Casarini ha chiarito altri concetti in questi punti allora parlando di spredici potenzialmente posso anche pensare che sia una cosa giusta perché i cittadini che abitavano in questa zona sono anni e anni che sento io parlando questa alienazione di questi box che coperni e penso che questo fatto qua possa quanto meno agevolare l'utilizzo da parte dei cittadini se acquisiscono il diritto di superficie del loro box è chiaro che i famosi 60 mila euro che dovrebbero essere trattati nell'administrazione se tutti acquisissero il diritto di superficie non ci cambia sicuramente il modo di condurre la nostra amministrazione da oggi a domani però quanto meno ci libera da un famoso gruppo di alienazione che vengono messi in piano nel bilancio che sono questi box qua ok quindi questo lo posso capire ovviamente quello che mi riguarda il resto è che il fatto che questi sembra quasi che vogliamo liberarci di questo problema per amore di Dio io spero che tutti i cittadini sfruttino questa possibilità appunto con la speculazione che qualcuno va insinuando nel fatto della vendita di padre in figlio che c'è resta onestamente può anche non riguardarsi questo quanto qua hanno una mano i cittadini che vogliono pensi che tu sia voluto i cittadini questa richiesta di questo questo modo di togliere il diritto di superficie a noi non cambia la vita tranquillamente però può dare un aiuto ai cittadini questo libro mi porta a pensare che è il terzo gioiello di famiglia diciamo che noi stiamo vendendo ecco su di questo va bene perché anche i cittadini magari sulla casa del riposo sulla cacchino va di sotto ma forse era meglio fare un'altra riflessione che non abbiamo fatto oggi come oggi va bene questo perché è un vantaggio per i cittadini quindi tutto quello che riguarda i cittadini è un bene per i cittadini io penso che possa essere sicuramente condiviso e apprezzato perché a piccina con i frammentari può essere una famosa vendita o quella che introditerà in comune questo non lo so non penso che sicuramente saranno cifre che aiuteranno le future amministrazioni a restare nel fatto di stabilità però in questo modo qua penso che questo altro sia un altro favorevole i cittadini quindi come tale non considero ecco rimane il dubbio che forse altri gli enti dei superfici potevano essere valutati meglio di non avere strommato altri se lo ricordo volevo aiutare buonasera grazie qualche dubbio ce l'abbiamo anche noi nel senso che non capisco come mai facciamo facciamo costruire dei box in indirizia convenzionata e poi a semplice richiesta dei cittadini tentiamo di trasformare in indirizia privata cioè questo non credo sia una cosa legittima cioè nel senso come se tutti quelli che hanno comprato degli immobili in indirizia convenzionata vengono ci fanno una richiesta di trasformare in indirizia privata pagando una differenza detto questo nello specifico in commissione giustamente come diceva il collega c'erano dei proprietari di questi box i quali parlando con loro hanno espresso la volontà insieme ad aver capito di acquistare questi box non tanto il diritto di superficie di questi box e togliere i vincoli non tanto per avere la proprietà dei box ma proprio perché c'erano dei problemi di lavori dicevano che hanno fatto delle richieste per migliorare perché ci sono dei problemi dell'acqua quando piove eccetera 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 quindi da parte loro la richiesta parlando con loro la richiesta è stata fatta è stata fatta proprio per andare a risolvere questi problemi dove l'amministrazione non ci sono soldi magari non riesce a intervenire come in tanti altri casi quindi sollevare all'amministrazione questo problema di manutenzione e farsene carico direttamente loro però specificamente dicevano anche che a questi numeri il box non va a nessuno quindi adesso non so se voglio dire adesso vedremo come andrà avanti se questo è un atto dovuto in aiuto ai cittadini che fanno una richiesta e a sgravare l'amministrazione quando nella realtà dei fatti probabilmente stiamo perdendo del tempo perché poi al fine il box non riscatta nessuno perché dei numeri che ho sentito tra notario e togliere i vincoli e togliere i diritti di superficie ci arriva fuori 5-6 mila euro e non mi sembravano molto favorevoli le persone che hanno fatto questa richiesta grazie un chiarimento perché se no voglio dire non ci capiamo io capisco che voglio dire hanno comprato con il diritto di superficie ma non è previsto che chi compra in edilizia convenzionata la manutenzione aspetta al comune il problema non è il proprietario dei box che sono loro il problema di infiltrazione di acqua o di di altre no ho capito però tu hai detto chiaramente sono stati di cittadini però non si può venire qui non si può venire qui scusa però io non ti ho interrotto è legittimo dire tutto riportare tutto però bisogna dire le cose come stanno i cittadini hanno detto questo però bisogna dire anche la verità perché se tu compri in diritto di superficie non è che vuol dire che compri una casa in diritto di superficie c'hai da fare il tetto viene a casa tua e te lo fa un altro te lo fa il comune non funziona in diritto di superficie vuol dire che tu hai un'agevolazione all'inizio dopodiché la manutenzione è tutto quello che è a caricatura e questo lo sappiamo lo sappiamo noi abbiamo espressamente messo in delibera il fatto del diritto di superficie l'abbiamo già superato il problema rimane quel vincolo dell'articolo 8 e che quel vincolo là lo vogliamo togliere vogliamo come dire la possibilità a tutti di avere non solo chi lo fa oggi ma chi lo fa non deve vendere oggi ma lo vende tra 15 anni tra 20 anni il diritto di togliere il vincolo dell'articolo 8 e venderlo a quota di mercato perché se uno non toglie l'articolo 8 non va ma perché è previsto nella convenzione cioè non è che ce lo siamo inventati noi non ci siamo svegliati stamattina no non ci siamo no scusi però se mi interroppo no scusi poi mi rispondi c'è la possibilità di rispondere noi facciamo questa delibera per togliere innanzitutto avevamo avuto delle richieste dai proprietari di box e quindi abbiamo preso in considerazione la questione e siccome tutti non devono vendere il box mettiamo a disposizione questa delibera il muro che non sia chiusa che va avanti chi venderà il box può cancellare come dire quello che prevede l'articolo 8 e venderlo al libero mercato ma chi vuol vendere anche con l'articolo 8 lo può vendere serenamente lo vende lo vende al prezzo che nella convenzione quindi quelli di esso hanno diverse possibilità uno vuol venderlo e vuol vendere il piatto di mercato deve come dire riconoscere quello che è previsto in quella formuletta che nessuno in questo momento è in grado di quantificare chi vuol vendere con l'articolo 8 ancora dentro lo vende comprando il diritto di superficie vendendolo tutti sono liberi di fare quello che vogliono secondo me è una delibera che va nella direzione giusta che dobbiamo dirci che qua non è che si fa cassa perché non è che là abbiamo 65-66 proprietari di box che dobbiamo vendere quindi hanno anni per decidere se vende ottenerselo o passarlo ai figli quindi credo che questa delibera va nella direzione giusta posso passare così grazie presidente beh non è dubbio che sono sostanzialmente d'accordo su questa delibera perché le esigenze sono mutate rispetto al 1989 sono passate 26 dell'anno quindi è immaginabile che la richiesta avanzata dei proprietari sia dettata non certamente da una volontà di effettuare delle speculazioni su questa cosa che immagino non conosco bene la situazione ma vado via di immaginare che si tratta di famiglie che non pensano assolutamente la sperimentazione forse il dettato di questa richiesta più che altro decide dal fatto che passati 26 anni comincia ad arrivare l'esigenza di cominciare a trasmettere qualcosa anche ai figli e quindi di lasciare svingolati le altre situazioni e questo è normale che accade mi vede anche consenziente però anche proprio perché si vuole tutelare i proprietari e i cittadini che abitano lì in quella zona bisognerebbe a mio avviso mettere fuori da ogni dubbio la possibilità che qualcuno ci possa andare a speculare ma questo anche proprio del loro interesse sicuramente non è oggi il momento in cui il mercato offre delle possibilità di spetturazione in quel senso però sappiamo domani che cosa possa succedere a mio parere il box è stato costruito in attinenza all'appartamento perché deve essere un'aspetto di viabilità di urbanistria di parcheggio e quant'altro e quindi questo deve essere lo scopo quindi a tutela maggiore rispetto ai residenti della zona mettere delle condizioni che sostanzialmente scoraggiassero in futuro anche in futuro la possibilità di effettuare delle scoplazioni potrebbe essere cosa buona e giusta però se questo non è tecnicamente possibile ha detto una tentazione sicuramente chi ha avanzato in questa proposta non ha certamente pensato da fare delle scoplazioni ma semplicemente a diventare proprietario di un qualcosa in modo che passati gli anni come per noi tutti passano poi si possa tranquillamente lasciare ai figli quanto è stato grazie altri interventi consigliere Oreste grazie molto velocemente il presidente si io parto da una considerazione fatta prima dal consigliere Magnoni che faceva riferimento forse all'opportunità di cominciare una valutazione nell'ambito della rete dei diretti di superficie se ho capito bene presenti nella città è la cosa di sicuro penso che possa essere interessante penso però che non sia così agevole perché non penso che sia sempre agevole una valutazione univoca perché la concessione di diritti di costruzione di mobili in convenzione e la correlata concessione di diritti di superficie varia a seconda della tipologia di immobili della zona entro la quale i mobili sono stati costruiti del periodo in cui sono stati costruiti questi immobili e poi della quantificazione del valore di assegnazione al tempo per cui ci possono essere delle valutazioni in questo caso che di sicuro probabilmente possono fare però penso che siano anche abbastanza definitive in questo senso o comunque che possono variare a seconda delle diverse condizioni perché un'assegnazione in convenzione con un valore che oggi appare alto magari è quello che è capitato anche rispetto alla ibox che fuori che nel 1989 in via conferma perché adesso dopo 25 anni potrebbero essere analizzati oppure no oppure più o meno interessanti rispetto a prima questo periodo ma così vale anche per altre valutazioni per cui lo spunto è accoglibile però andiamo a parlarne non è non penso che fosse possibile in questa esatta fattispecie infatti questa esatta fattispecie per come abbiamo capito prende lo spunto da una specifica richiesta fatta dai dai condomini dai dai cittadini abitanti via Copernico con questa formula si vuole dare appunto un'opzione a cui valutazione economica poi è lasciata ai cittadini con tutte le valutazioni del caso che dipenderà intanto la vero del mercato attuale o spettrico perché e questo non è valutabile per cui anche la speculazione per quanto comunque stiamo parlando di box di pertinenza che non cerco di box in zona particolarmente pregiata per cui a me pare che la cosa lasci un'opzione ai cittadini che ne hanno fatto richiesta poi ognuno la compra la valutazione e mi sembra anche che sia abbastanza ai piedi per quello che possiamo capirne oggi visto la valutazione di mercato che possiamo valutare oggi grazie altri? se non ci sono interventi c'è lo spazio per le repiche niente di dubbio grazie Grazie.